Ciao sindaco, tu ci sei buono o sei buono? Alla passeggiata? Vedo come fare, vedo come fare. Fintaco, mi pare che sei già con scarpe da tennis pronto per fare la campionata, il trekking? Eh sì, questa domenica sarà una giornata dedicata allo sport. Ringrazio l'associazione Mettivini Ribera che ha organizzato questa mattinata per questo percorso naturalistico che partendo dalla nostra meravigliosa villa comunale attraverserà le strade della città e poi arrivare nella zona del castello di Poggiodiana e correndo tutta la gola del luto. Un percorso naturalistico straordinario. Sono arrivati, saranno almeno 6-700 ciclisti da ogni parte della Sicilia che oggi ci onorano della loro presenza ed è una conclusione eccezionale di questa manifestazione che abbiamo avuto fortemente, che è riuscita, che ha avuto partecipazione di pubblico, partecipazione dei nostri concittadini che hanno potuto rivedere la villa comunale riqualificata. Abbiamo parlato e discusso dei problemi dell'agricoltura, delle iniziative da intraprendere per supportare e favorire la crescita del nostro settore agricolo coniugandolo a quello turistico. E anche la manifestazione di oggi vuole essere una manifestazione che dal punto di vista turistico, di un turismo diverso, quello delle passeggiate ecologiche con le bici, con il trekking, vuole far conoscere questa nostra realtà, questo nostro territorio straordinario. Un grazie di cuore a tutti, a quelli che sono stati vicini all'amministrazione comunale, all'associazione Lune d'Intorni di Enzo Tudisco, al Consorzio Arancia di Ribera Doff, a tutti gli assessori, a tutta la Giunta, a tutti i dipendenti comunali della manutenzione che hanno fatto veramente un lavoro straordinario per ridare alla fruizione questo scrigno che è la nostra villa comunale. Allora Sindaco, buona passeggiata. Grazie, grazie, buona domenica a tutti e buona fiera.